Arubbrica Rozzo Dori, Ischia Catania e il pre-partita. Il Catania tra la partenza e i nuovi arrivi comunque si schiererà con il classico 4-3-3 con Limerale in porta e al lato della difesa Nunzella e Garufo. Al centro agiranno Bergamelli e Pelegatti. Al centrocampo a supporto delle tre punte agiranno Agazzi e Di Cecco con Musacci. Le tre punte saranno Calderini e Falcone al lato e punta centrale Kalil. Ischia si schiererà con il 4-4-2 molto mobile sulle fasce a supporto di due punte molto veloci e molto fastidiose che hanno dato già molti problemi alla squadra rossazzurra nella partita di andata. Si aspetta una bella partita molto combattuta appunto soprattutto sulle fasce. dalle ore 14 ci sono io che vi racconterò la partita.